Scusi, mi sono perso. Dove sono? Aspetta, Franco. Siamo al mar di Rovereto. E cosa c'è da vedere? Ci sono le mostre permanenti e la mostra di Giuseppe Penone. E' tutto accessibile? Sì, dai! Ciao a tutti, oggi siamo qui al mar di Rovereto. E siamo venuti a trovare la nostra amica Susanna. Vieni, vieni! Ciao! Ciao Susanna, quindi ci confermi che qua è veramente tutto accessibile? Certo, per questo vi ho invitati. E allora al prossimo anno ci porteremo... Danilo Nevi.